Ciao unicorni e unicorni e benvenuti in questo nuovo video su youtube di minecraft oggi vi annuncerò che ogni giorno ogni giorno farò un video di minecraft ovviamente su youtube quindi prima non facciamo entrare questo creeper che fa da ragazzi ma sono un creeper vicino a casa mia quindi ragazzi come vi ho appena detto siamo in creativa però ora voglio costruirmi lab bedrock costruiremo un qualcosa di gigante anzi no staremo ora io e Aldo 24 ore in quel posto Aldo esce da casa vieni allora ragazzi aspettiamo Aldo prima mettete like a questo video iscrivetevi al canale e attivate la campanellina qui sotto ora comincia il video anche se è già cominciato quindi Aldo vieni fermo 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 aiuto ragazzi vi prometto che faremo il video oggi veramente Aldo vieni Aldo Aldo scusate ragazzi scusatelo esci volando ok andiamo ragazzi ragazzi prima dobbiamo costruire il nether quindi prima costruiamo il nether che faremo così ne facciamo uno qua lo facciamo dov'è vabbè lo faremo dopo vieni Aldo no 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 aspetta prima facciamo che esce un'altra quella isola verde vieni seguimi che vuoi sono qui sotto eccomi sono gli occhi ciao bello ok andiamo aspetta andiamo non è di là di qua vieni seguimi eh no vieni e basta seguimi seguimi stai zitto sono qui qui vieni e stai zitto ragazzi mi sta facendo perdere un sacco di tempo vabbè ditemi se vi piace se vi chiamo unicorni unicorni ah eccolo entro entro dentro casa sì certo ok ragazzi ora esploriamo un pochino questa isola anche se già l'avevi esplorata entra entra cioè esci andiamo ragazzi guardate sono qui su no non sto camminando sono qui allora se mi vuoi trovare sono in una montagna ho trovato un'isola con 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 della sabbia dove sei tu allora ritorna a casa cioè no in quella dove c'è il ghiaccio nella casa che ho costruito qui in questo tipo di deserto io sono quasi a casa sono quasi a casa non ti preoccupare per me ragazzi mi sono persa non trovo più niente ragazzi ragazzi mi sono persa dove sono e non trovo nemmeno il ghiaccio vabbè tu di ghiaccio ragazzi sto cominciando a preoccuparmi è notte non so dove andare mi sono persa ho solo da fare andare nel villaggio che ho trovato no allora ragazzi io vado nel villaggio che abbiamo visto insieme e poi quando è mattina vediamo dov'è ragazzi ho paurissima perché qui mi sono persa anche nella sabbia non trovo neanche il villaggio ragazzi mi sono persa ecco il villaggio sbrighiamoci è tutto illuminato Aldo tu nella sabbia troverai un villaggio illuminato di sabbia in un villaggio in un villaggio di sabbia cosa ma cos'è arrivata qua come come sono arrivata nella sabbia perché ti metti con le vite non lo so una due tre cosa wow vuoi indovinare il tuo codice ho svegliato un abitante qua dentro non c'è niente però dormiamo ragazzi Aldo ragazzi sta durando moltissimo questo video però non fa niente ci alziamo anche di notte quindi anche se ci sono zombie o creepy per altre cose noi siamo sempre alzati ragazzi oddio sono zombie sono zombie oddio ragazzi che mi ha dato mi ha dato ho famissima ti ha dato ho famissima ho della fame di zombie ho fame zombistica ragazzi non capisco che cos'è ho una fame zombistica ragazzi qua non c'è nemmeno un letto quante volte ho detto ragazzi non lo so però so che Aldo deve dormire sì ma perché lei non dorme sennò io non dormo qui ragazzi qua c'è del ferro alcune cose qua dentro non c'è niente però quindi io dormo fermo dove vai guarda sono stanco ragazzi qua c'è un brunchiore ma non so che non mi serve ragazzi sono stanco quindi ragazzi Aldo non gioca non gioca più vediamo la porta c'è qua dentro vabbè del cactus del cavolo di cactus ragazzi non dico parolacce sono una quella che non dice parolacce veramente quindi ragazzi spolliciate io per ora sono qui dentro per ora togliamo Aldo aspettate ragazzi e non posso toglierlo quindi io non potrei dormire quindi ragazzi il video non si conclude qua perché metto Aldo che non può giocare qui è nella casa di ghiaccio però io sono persa quindi ragazzi ragazzi ora non ci dovrebbe essere più Aldo come c'è ancora c'è ancora Aldo vediamo ora è sempre Aldo però io non posso dormire dell'ospettiva di mattina mattina presto non ci vediamo niente sempre ho trovato una casa che già ce l'ho andata quindi ragazzi saliamo qua sopra e basta ciao qua c'è tipo qualcosa faccio una stanzina che mi serve veramente ragazzi io sto cominciando ad avere paura qua dentro oddio una fame incredibile ragazzi mangiamo le carote oddio ho avuto una fame famosa famosissima ragazzi c'è uno zombie ragazzi c'è uno zombie ragazzi stiamo tranquilli perché tanto c'era un inutile zombie ragazzi come lo devo ammazzare ragazzi entriamo e basta ora mangiamo per un po' ragazzi non potrei capire la paura che ho avuto ragazzi il video si conclude qua un bacione gigante ci vediamo ci vediamo domani e alla prossima ciao